Ragazzi, qui ci troviamo in una standa, questa è un po' più piccola di quella precedente, ma anche questa è molto comoda, è assolutamente comoda, soprattutto per una oppure due persone, per chi deciderà di fare l'upgrade light, quindi c'è soltanto un letto matrimoniale e a differenza delle altre stanze ci sono solo due piani cottura. Però comunque è comoda, si trovi benissimo, anzi addirittura la preferivi alla superior, poi anche qui abbiamo... Anche qui ragazzi vi avete sempre la smart tv, l'armadio, sì gli accessori sono sempre gli stessi, anche qui un armadio, letto, e questa è la visuale della stessa di prima comunque, vero? Assolutamente, qui c'è un bellissimo patto, ieri ha nevicato e appena eravamo in ufficio ho detto al prof, io devo andare a scendere, devo andare a cuore la nieve e quindi mi sono fatto una lunga passeggiata, quindi se i ragazzi vorranno fare escursioni, passeggiate, visite culturali saranno sempre a disposizione. Sì, è vero, è vero ragazzi, confermo, è stata la nostra guida in questi mesi. Perfetto, magari un'occhiata al bagno anche qui, piccola ma molto comportevole. Sì, molto funzionale comunque. Come tutta la stanza insomma. Sì, infatti. Ok, perfetto. Ecco qui una grande doccia, comunque termosifoni in ogni stanza, anche se voi ne avrete bisogno, a maggio. Ok, il phone anche qui, perfetto.